A 300 metri d'altezza, su una collina posta alle falde del Monteferru, nasce Seneghe. Le popolazioni sparse nel territorio hanno dato origine a questo villaggio già nei tempi precedenti le infiltrazioni puniche e romane. Ne danno conferma gli oltre 100 nuraghi presenti nel suo territorio, alcuni dei quali ancora perfettamente eretti. Il ritrovamento poi di altri monumenti di epoca ugualmente remota, come la tomba dei giganti e una domudeiana, rafforzano le rivelazioni storiche. Dalle sue terrazze naturali si gode della vista di tutto il Campidano, fino al Golfo di Oristano da una parte e dei monti Arci e Ghirghine dall'altra. Il territorio seneghese è sempre prodigo di bellezze naturali. Queste rocce, dette Laccos, in inverno sono una vera e propria cascata, circondata dai maestosi boschi di Lecci e Sughere. Ne abbiamo un ottimo esempio ammirando il bosco comunale di Sosparis, nel quale le strutture adatte alle scampagnate o ai picnic si fondono perfettamente con il resto della natura, ricca di verde e sorgenti d'acqua freschissima. Se tutto questo è una realtà ancora esistente, lo si deve soprattutto all'attaccamento che ciascun seneghese sente profondo per la propria terra, lo stesso amore che li unisce nella difesa del territorio dagli incendi o dai pericoli comuni. La tipologia abitativa attuale è moderna, ma quella antica è rappresentata soprattutto da un misto tra la casa di tipo campidanese e quella di tipo montano, in una rielavorazione assolutamente originale. Come questa della fine dell'Ottocento, perfettamente restaurata, vi può meglio testimoniare. Le rifiniture sono tutte originali, così come le porte e parte dei mobili. Al piano terreno, somo manna, saposento e groccai, sagoghina, sumagasinu. In Suvasarizu, l'andito, ci mostrano l'antica tradizione della filatura del lino e della lana, mentre la piccola Manuela gioca a fare la mammina. Ma è in Sapposento e Brandere che ci viene riservata una speciale, dolcissima sorpresa. Sono venuta a Mastinio del Seneghe, essendo tutti i nostri amaretto dolci, che mi preoccupa tanti. Quindi, piantezzi tutti i nostri amaretto, tutti i nostri amaretto, tutti i nostri amaretto, non? Sono davvero ottimi questi dolci. Noi li abbiamo gustati insieme agli altri prodotti locali e al pane della signora Carellu. Ma per le vie del paese sono molte le cose da vedere. La Casa Spano, in stile aragonese, con i suoi cento anni sulle spalle, è un esempio. Così come molte delle facciate che si aprono sul corso Umberto, all'inizio del quale spicca nella sua maestosa semplicità la chiesa di Santa Maria delle Rose, risalente al XIII secolo. Di particolare rilevanza storica alcuni portoni, o meglio alcuni ingressi ancora originali nel quartiere di Sant'Antonio, nel quale troviamo anche la chiesa omonima del XVII secolo, la cui costruzione è dovuta alla pietà dei fedeli. La parrocchia spicca fra tutti i luoghi sacri per la sua imponenza architettonica e per il pregio degli affreschi di Giovanni Scanu contenuti al suo interno. Le attività economiche più importanti del paese sono l'allevamento e l'agricoltura. Notevole la produzione di olio d'oliva, ogni due anni circa 200.000 litri. A tale proposito ci sembra doveroso menzionare il riconoscimento avuto quest'anno da un'azienda locale che ha ottenuto il primo premio nazionale Ercole Olivario per l'olio extravergine nella categoria fruttato intenso e del quale ci ha parlato Gianni Cosseddu, titolare. A quest'anno Seghe ha riconosciuto gli svolti in parte del settore dell'olio d'oliva, avendo vinto un premio a livello nazionale come categoria fruttato intenso e un premio a livello regionale categoria fruttato medio. Quindi speriamo di condivinarci per portare in attesa per questo prodotto di qualità e di mandarlo sempre più avanti. Evidentemente il merito di tutto questo successo e di questa alta qualità sta, oltre che nell'impegno dei produttori, nell'aria davvero speciale e nella terra così generosa, ricca di acque perenni, che regala grandi soddisfazioni a tutti gli agricoltori. Ma Seneghe è abituata ai primati e a questo proposito va ricordato anche il primo premio nazionale vinto per la produzione del miele. Ma sentiamo il signor Antonio Caria della ditta Mancosu, che con la moglie Pina e il signor Fuzzolu, è titolare del premio. Allora, i termini di miele vengono prelevati dall'ampiario che si trova in località Bambuco. Oppure una volta a casa bisogna disopercolarli, cioè togliere lo strato di cera che le api mettono perché in modo che le miele si conservi le grotte. Allora, l'operazione si chiama disopercolare. Una volta terminata questa operazione, il terrarino viene messo nella centrifuga, in modo tale che il miele fuoriesca e poi dalla centrifuga venga filtrato, mediante filtri di varie dimensioni, calibratore. Allora, terminata la centrifugazione si inizia la prima fase di filtraggio, cioè il primo filtro grosso d'anno che toglie le prime impurità di cera che è rimasto nel miele. Dopo una serie quindi di filtraggio, il miele con vari filtri, di diverse pezzature, il miele viene lasciato decantare in queste maturature e quindi è pronto al ribasettamento. Non essendo un paese di passaggio, Seneghe è rimasta piuttosto isolata dalle vicende della zona e pertanto è stata più naturale la continuazione, nei secoli, di usanze e feste nelle quali conservare inalterati i vecchi rituali. Come queste immagini forniteci da un video amatore ci mostrano, le tradizioni seneghesi raggiungono la massima espressione durante il Carnevale, che comincia il 20 gennaio e termina il martedì grasso. In questo periodo, la piazza dei Balli diventa il centro della vita del paese, punto di ritrovo per giovani e vecchi. Il ballo in piazza ha un rigido cerimoniale, seguito da tutti i ballerini, che prevede, tra l'altro, che sia la donna a scegliere l'uomo e che con lo stesso compagno balli per tutto il giorno. Paese che vai, usanze che trovi, dice il proverbio. Ma le usanze di Seneghe e soprattutto dei seneghesi sono davvero gradevoli e simpatiche. Se non ci credete imparate il ballo sardo e venite qui per il Carnevale. non resterete delusi. Grazie. 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 Grazie.